Quattro candidati si sono contesi il ruolo di sindaco a Vallefoglia ad avere la meglio Palmiro Ucchielli che con quasi il 59% si è aggiudicato il terzo mandato. Un risultato tanto atteso quanto netto anche se il primo cittadino di Vallefoglia ammette che non si aspettava un vantaggio così ampio rispetto agli altri candidati. Ucchielli dopo qualche ora dalla proclamazione era già al lavoro. Quasi il 60% dei consensi al terzo mandato vuol dire che la gente ha molto apprezzato tutto quello che abbiamo fatto e soprattutto anche le idee per il futuro. Le cose più grosse, la depurazione, il comune nuovo, la piazza con i giochi d'acqua, due teatri, teatro Giovanni Santi inaugurato col Presidente della Repubblica, un bus rapido Vallefoglia-Pesaro per 11 milioni di euro, un rapporto diciamo di grande armonia con la regione e con il governo pur da posizioni politiche diverse. Per Vallefoglia previsti altri investimenti per migliorare la vita pubblica di tutti. Continuerà lo stretto rapporto con la regione Marche per potenziare la casa della salute e i servizi sulle politiche del lavoro. Tra gli obiettivi del sindaco Ucchielli offrire maggior centralità a Vallefoglia ed esaltare le attività economiche e produttive. La gente ha distinto tra le chiacchiere, le polemiche e la valle del fare, cioè un governo di persone autorevoli, di grande esperienza, che fanno le cose per il bene della città. Il sindaco di tutti, io lo sono sempre stato, sarà un cura di più il sindaco di tutti e ringrazio tutti quelli che hanno dato il consenso, ringrazio anche quelli che non l'han dato, ringrazio anche tutti i miei avversari perché il buon ton non siamo nemici, siamo avversari e il giorno dopo dobbiamo lavorare tutti insieme per il bene comune.